La nostra è una piattaforma web che permette e consente ai nostri utenti di realizzare gioielli partendo da un messaggio vocale, quindi il gioiello avrà un valore assolutamente emotivo ed oltre ad avere un contenuto fisico potrà trasmettere un'emozione, potrà trasmettere un messaggio vocale. Come è nata questa idea e quando? Questa idea è nata circa un anno e mezzo fa ed è online da circa da maggio e è nata grazie a Innovation Lab e alla partecipazione a questo concorso. Piano piano poi abbiamo continuato a portare avanti il progetto e siamo arrivati qui alla finale di ITCAP registro. Quali sono le risposte del mercato fino a questo momento? Come va il business? Allora le risposte sono molto buone perché è un prodotto assolutamente interessante e innovativo non esiste niente di simile al mondo e quindi le persone sono molto affascinate da questo nuovo prodotto e stiamo testando più mercati. Adesso siamo in Italia però miriamo gli Stati Uniti come obiettivo finale.